Buonasera a tutti, benvenuti e grazie davvero moltissimo per la vostra partecipazione, ci dispiace moltissimo per le persone che sono rimaste fuori ma per motivi di sicurezza non c'è stato niente da fare, abbiamo insistito ma purtroppo è andata così, comunque è bellissima questa sensazione vedere il teatro splendor così gremito di persone e soprattutto dimostra l'interesse che c'è nei confronti di questo argomento e del professor Berrino. Diamo il benvenuto all'assessore alla sanità e politiche sociali della Valle d'Aosta e naturalmente il benvenuto al professor Berrino che ringraziamo per la disponibilità e passo subito la parola all'assessore per un saluto e un benvenuto da parte dell'amministrazione regionale. Sì grazie, buonasera a tutti, la sensazione è veramente molto bella che di fronte a un tema sulla prevenzione, su come accedere a stili di vita che ci mantengano uno stato di salute così tanta gente voglia approfondire questo tema e esserci vicini in questo percorso, percorso che hanno iniziato le associazioni come Viola, come Cibo e Salute e la Lilt, capillari nella loro attività di sensibilizzazione sul territorio, fondamentali in quest'opera di informazione che noi vogliamo fare. Una sensazione molto piacevole ma con molto rammarico perché ci saranno 300-400 persone fuori, non avevamo una sala così capiente che questa, quindi ci scusiamo per questo fatto e il professore dovrà replicare in un'altra occasione. C'è una grande arma per sconfiggere la malattia o per non fare ammalare nessuno o se non altro anche per far sì che chi si è ammalato possa guarire prima e con più facilità ed è la prevenzione. La prevenzione si può intendere in un modo formale, prevenire meglio di curare eccetera. Oppure si può affrontare con una dimensione culturale nuova che veramente la prevenzione, gli stili di vita corretti, la mobilità, il muoversi e il fare attività fisica fa sì che le malattie non arrivino. È un concetto nuovo che il professor Berrino ha studiato nella sua lunga carriera apportando degli elementi scientifici di grandissima importanza e ha dimostrato questo fatto in modo inoppugnabile, in modo scientifico, non con delle teorie. Per cui anche la nostra organizzazione sanitaria, il nostro piano sanitario, si sta orientando in questo senso. Stiamo spostando tutta una strategia. Non si guarisce di più solo con una tecnologia maggiore, con più mezzi scientifici e tecnici. No, si guarisce e si sta meglio se tutti ci convinciamo e lavoriamo per promuovere degli stili vita differenti. È paradossale per uno che ha fatto il chirurgo per tanti anni vedere come certe malattie, come certi tumori, il tumore al seno, non si ripresentano, non si ripresentano con molta meno facilità se si seguono degli stili di vita, dell'alimentazione corretta. È un dato scientifico nuovo, è un dato che noi accettiamo e a cui vogliamo dare credito con tutta un'attività, come vi dicevo. Un'attività che ha già iniziato con dei corsi di formazione sugli specialisti perché la prevenzione, se ci crediamo, deve avere tutto un percorso formativo. È cominciato oggi, anche oggi è la prima giornata nazionale in cui si pone particolarmente attenzione alla salute della donna, a quella salute che, come dice il Ministro Lorenzin, qualche volta la donna trascura perché ha molte altre cose da fare, i figli, il marito, il compagno. Quindi oggi ci siamo occupati con varie conferenze, con varie attività, proprio di far partire tutto un discorso che prima è culturale ma poi è di visite gratuite, di esami propedeuci alla salute, di questa dimensione della salute della donna. è festeggiata oggi, il 22 di aprile, perché è il compleanno, è il giorno in cui nacque Rita di Montalcino, la grande scienziata. Io voglio ancora ringraziare il professore di essere qui questa sera, il professore ha lavorato all'Istituto dei Tumori di Milano e soprattutto non viene a parlarci di una possibilità, di un'eventualità, di una teoria, ma di un percorso che lui ha studiato per primo in modo scientificamente corretto per dirci che c'è tutta un'altra, è una strada nuova per poter stare bene. Noi come amministrazione non possiamo che dare credito a quello che lui dice, come vi dicevo prima, spostare un'attenzione da un sistema a un altro sistema. La vostra presenza qui oggi è molto incoraggiante e speriamo proprio di fare questo percorso insieme. Grazie. Grazie, grazie Assessore. Ci teniamo anche noi ad esprimere la nostra gratitudine all'Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali, all'Istruzione e Cultura, l'Assessore Emilie Rini, alla Rete Oncologica Piemonte-Valle d'Aosta per la concessione del patrocinio e naturalmente l'azienda USL per la promozione e per l'organizzazione di questo evento e per aver accolto con piacere l'iniziativa proposta dall'Associazione Viola e dall'Associazione Cibo e Salute e alla quale ha aderito e ringraziamo Nadia e lo staff della cooperativa Lopaner che hanno contribuito anche economicamente. Mi permettete solo un'altra nota di merito che in modo particolare va al dottor Giorgio Galli, a Paola Bocco, a Clara Chiabotto che è la referente in Valle d'Aosta dell'Associazione Cibo e Salute, grazie a Jenny Giocolè, Cristina Barè e Teresa Cascarano per l'impegno e per il ruolo fondamentale che hanno avuto nell'organizzazione di questa serata. Adesso entriamo nel tema e professore gliel'abbiamo già detto che è un privilegio per noi averla qui, glielo ribadisco. Anche se lei non ha sicuramente bisogno di presentazione, per noi è un piacere comunque ricordare che il medico epidemiologo ha diretto la divisione di epidemiologia dell'Istituto Tumori di Milano, ha promosso lo sviluppo dei registri tumori in Italia e in Europa ed ha organizzato, partecipato ed avviato molti studi internazionali scientifici sull'argomento, tra i quali il progetto Diana, appunto che studia la correlazione tra abitudini alimentari, stili di vita e insorgenza del tumore al seno e delle sue recidive. Con un po' di orgoglio mi permetto di ricordare, ne parlavamo prima col professore, che l'associazione Viola proprio nel 98-99, l'allora presidente e amatissima fondatrice di Viola, Nadia Berard, invitò il professor Berlino ad Aosta ad incontri dedicati alla prevenzione proprio per illustrarci il progetto Diana, che stava muovendo i primi passi e oggi è arrivato al suo quinto step, se non sbaglio. Che dire, il professore nei suoi 40 anni di appassionato e qualificato lavoro ha pubblicato e scritto molti libri sull'argomento, su riviste scientifiche e ha anche collaborato con associazioni di volontariato. Il cibo dell'uomo è il suo lavoro più recente, che prende il titolo tra l'altro da un opuscolo che aveva pubblicato qualche anno fa, già molto prima, ed è un libro che fa chiarezza, che raggruppa un po' tutti i suoi scritti, ma soprattutto fornisce aggiornamenti su molti studi scientifici sulla relazione dipendente che c'è tra alimentazione e tumori e salute, senza mai tralasciare l'esercizio fisico. Si può definire una bussola con la quale orientarsi in un settore, in un mondo dove regna veramente grande confusione e disorientamento. Ed è rivolto a tutti, alle persone che soffrono di disturbi che incidono sulla qualità della vita, alle famiglie, ai medici, ai professionisti del settore. La strada della consapevolezza passa attraverso l'informazione scientifica e chiara e anche probabilmente la capacità individuale di introspezione. Adesso concludo qui perché do spazio subito al professore per il suo intervento. Grazie. Grazie. Un grazie particolare a queste associazioni che mi hanno invitato, Viola e Civo Salute, per l'accoglienza che ho ricevuto. pensate, mi ospitano in un bed and breakfast qui ad Aosta e lì sono arrivato e ho visto che per colazione domani mattina avrò un pane, un pane, un pane vero, cioè non un pane fatto con la farina 00, la farina 0, con il migliorante, un pane fatto con la farina macinata, con il grano macinato. E' una cosa eccezionale. E poi avrò una... ci sono dei biscotti assaggiati, deliziosi, fatti senza zucchero e sono buonissimi. E il dolce viene dalla frutta, dalla frutta secca. E poi ci sono le mandorle, le nocciole. Sapete, le mandorle e le nocciole hanno una proprietà meravigliosa che è quella di rallentare la velocità di assorbimento intestinale del glucosio. C'è una persona che non le mangia perché sono grasse e fanno ingrassare. No, no, non preoccupatevi, le mandorle e le nocciole non vi fanno ingrassare. Beh, se ne mangiate tante tutto fa ingrassare, ci mancherebbe. Ma va bene che ci siano, tutti i giorni. C'è un latte di mandorle e udite, udite, un latte di mandorle senza zucchero. Perché sapete che quando andate a comprare il latte di mandorle nei supermercati quasi sempre c'è lo zucchero dentro. Ma è come se l'industria non avesse preso in considerazione che se uno lo zucchero se lo vuole mettere, se lo può mettere. Invece ce lo mette già lei. Ce lo mette già lei perché lo zucchero è una droga. E' una droga, è proprio, non è una droga proprio che ha una gravità come l'eroina o la cocaina, però attiva esattamente gli stessi centri cerebrali che sono attivati dalla cocaina. E' difficile cavarsela se il nostro gusto è avvelenato dallo zucchero. Per cui vi ringrazio di questa accoglienza. C'è qualcuno che conosce questa montagna? E voi siete dei montanari, dovreste conoscere questa montagna. Questo è il Macciapuccere. Il Macciapuccere vuol dire coda di pesce. E' una splendida montagna che ci accompagna nel viaggio che si fa verso il campo base dell'Annapurna. Io sono appena tornato da quelle zone. Ero partito, ero senza allenamento, avevo mal di schiena, avevo delle extrasistoli. Sapete quando il cuore sembra che si fermi un momentino. E mi dicevo, porca miseria, ma come mi sono ridotto. Ho camminato per 12 giorni e mi è passato mal di schiena, mi sono passate le extrasistoli e ho mangiato bene. Perché in questi posti si mangia il dalbat. Il dalbat vuol dire lenticchie e bat vuol dire riso. Riso, lenticchie e verdure. E' il cibo di base che si mangia in queste valli, in tutta l'Himalaya. Ed è un cibo eccezionalmente buono e utile e salutare. Questa è la terribile parete sud dell'Annapurna. E probabilmente sono guarito in questo viaggio perché mangiavo bene. Mangiavo quello che raccomanda il Padre Eterno. Nel sesto giorno della creazione Dio ha detto agli uomini, ad Adam e Deva, vi do le piante che producono semi perché siano il vostro cibo. Cereali e legumi. Perché mangiavo bene, perché facevo attività fisica intensa. Io approfitto di questi viaggi, la fatica nella bellezza. Faticavo perché avevo uno zaino di dodici chili sulle spalle. Ma la fatica associata alla respirazione è un modo di tranquillizzare la mente. La recitazione di un mantra mentre si cammina, o di una preghiera se volete. E sono le tre strade, sono le tre grandi strade della longevità in salute. Abbiamo fondato questa associazione, la Grande Via. La Grande Via è la via del cibo, la via del movimento, dell'esercizio fisico e la via spirituale, la via spirituale della meditazione. E oggi sappiamo che con queste tre strade, ciascuna di queste tre strade è in grado di influenzare il nostro destino. Con il cibo noi possiamo accendere e spegnere i nostri geni. Con il movimento fisico possiamo agire sul nostro DNA e anche con la meditazione possiamo per esempio spegnere i geni dell'infiammazione. Per cui abbiamo il nostro potere, tutti noi abbiamo un grande potere per mantenerci in salute. E il regalo migliore che noi possiamo fare ai nostri figli è di non ammalarci. e non ammalarci in particolare di queste malattie croniche terribili che ci sono oggi, queste malattie che non uccidono come l'Alzheimer, perché fanno soffrire tutti. E quindi abbiamo potere. La Grande Via, il nome viene, l'abbiamo preso dal libro di Fukuoka, La rivoluzione del filo di paglia. Questo maestro giapponese che ha insegnato a coltivare in un modo veramente rispettoso della terra. Io ho lavorato per più di 40 anni all'Istituto dei Tumori di Milano, ma alla fine della mia carriera finalmente ho fatto qualche cosa di utile. Ho fatto un orto. Abbiamo fatto un orto all'Istituto dei Tumori di Milano. Un orto sinergico, un orto dove non si zappa. Abbiamo portato della terra buona, ma sono le radici stesse delle piante che lavorano la terra. Sapete, in un millimetro cubo della terra di questo orto e di tutti gli orti dove non si usano veleni e dove non si stravolge la terra portandola a contatto con l'ossigeno, in un millimetro cubo vivono 100 milioni di microbi. La terra è viva, la terra è viva, bisogna rispettare la vita della terra. Beh, le montagne non le avete riconosciute, ma almeno queste frasi dovreste riconoscerle. Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità umane, una parte della società sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza. La tecnologia che è legata alla finanza pretende di essere l'unica soluzione dei problemi di fatto non è in grado di vedere il mistero, il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose e per questo a volte risolve un problema creandone altri. Chi ha scritto queste cose? Effettivamente, effettivamente ho incontrato recentemente un cardinale, un assistente del Papa che diceva i preti non hanno diffuso fra la gente l'enciclica Laudato Si. Date un'occhiata a questa enciclica. Il Papa dice che la crisi ambientale è crisi antropologica ed è legata al modello di sviluppo. Bisogna eliminare le cause strutturali di un'economia che non rispetta l'uomo. Beh, sono parole molto importanti, sono parole molto importanti perché se vogliamo la nostra salute dobbiamo curare la salute della terra. Se la terra è malata e anche noi ci ammaleremo. La via del cibo. La via del movimento e la via della meditazione. Vediamo qualcosa sulla via del cibo. Mi riporto qui le raccomandazioni del Codice Europeo per la Prevenzione dei Tumori, l'European Core Against Cancer. Sono raccomandazioni diffuse dalla Unione Europea e sono state redatte. L'Unione Europea aveva affidato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di valutare tutti gli studi scientifici sul rapporto, sulle cause dei tumori e naturalmente ci sono le raccomandazioni sul tabacco, ci sono le raccomandazioni sull'inquinamento, ci sono varie raccomandazioni, ma stasera ci occupiamo di cibo e ci sono anche delle raccomandazioni sul cibo che recitano basate la vostra alimentazione prevalentemente su cibi vegetali, cibi vegetali non industrialmente raffinati, cioè non la farina 00, non la farina 00, non il riso bianco, ma i cereali integrali, i legumi, le verdure e la frutta, tutti i giorni. Limitate i cibi ipercalorici, i cibi ipercalorici sono i cibi molto ricchi di zucchero e grassi, io adesso ho imparato che non devo fare i nomi dei cibi perché sennò rischio di avere delle denunce, ma voi guardate la televisione, io non è che raccomandi di guardare la televisione, guardare la televisione fa male alla salute, ma guardate solo la pubblicità, la pubblicità è la cosa più interessante, più utile, perché così sapete cosa non mangiare, sono limitate i cibi che hanno un'alta densità calorica ed evitate le bevande zuccherate, guardate la differenza tra limitare ed evitare, limitate le carni rosse, le carni rosse sono associate ai tumori dell'apparato digerente ed evitate le carni conservate. La ragione per cui le carni rosse sono associate ai tumori dell'apparato digerente è che le carni rosse sono molto ricche di ferro. Il ferro della carne, allora ci sono tanti meccanismi con cui la carne può favorire i tumori, ma questo è quello più solidamente dimostrato. Il ferro della carne è molto ossidante e favorisce la sintesi di sostanze cancerogene nell'indestino, le nitrosamine. Nelle carni conservate, nella maggior parte delle carni conservate, le nitrosamine ci sono già perché le carni sono conservate aggiungendo i nitriti, anche se alcune carni conservate, come per esempio il prosciutto di Parma, DOP, nel protocollo di produzione, non si usano i nitriti, per cui potrebbe anche essere magari assimilato alle carni fresche, però nelle carni conservate le sostanze cancerogene ci sono già. Grosso modo è chi mangia tutti i giorni carni rosse o salumi ha un rischio di ammalarsi che è circa doppio rispetto a chi le mangia raramente di un tumore dell'intestino o di un tumore dello stomaco. Probabilmente più che doppio, però perché sapete gli studi sul cibo sono abbastanza difficili e noi lavoriamo con dei questionari e gli studi sul tabacco sono stati facili perché se io vi chiedo quante sigarette fumate al giorno tutti sapete rispondermi di quante sigarette fumate al giorno ma se vi chiedo quanta carne rossa consumate al giorno dovete sommare la bistecca, il ragù, i tortellini, i salumi è una cosa già più difficile quantificare il cibo che non quantificare altre abitudini per cui si fanno degli errori negli studi e gli errori portano a se c'è una relazione tra questo cibo e la malattia portano a il risultato degli studi troveranno una relazione più piccola se c'è una relazione e poi c'è un commento di andarci piano con il sale in particolare con i cibi salati e di nuovo i salumi naturalmente andarci piano con l'alcol e praticare quotidianamente esercizio fisico e mantenersi snelli se voi guardate queste raccomandazioni vedete che praticamente si tratta della dieta mediterranea tradizionale una volta nel sud dell'Italia si mangiavano cereali che una volta erano integrali quando si macinava il grano a pietra ma anche qui erano integrali i cereali macinando il grano nel murino a pietra non riesci mica a fare la farina zero zero cereali integrali i legumi e tutti i giorni c'erano i legumi le verdure la frutta la frutta è aginosa noce nocciole manderle nei paesi di mare il pesce e qualche volta un cibo animale e il cibo animale invece oggi è diventato un cibo quotidiano mangiamo carni formaggi uova tutti i giorni in questa diapositiva vi illustro l'analisi del nostro studio del nostro studio EPIC il studio EPIC è uno studio in cui abbiamo reclutato 500.000 persone in Europa in 10 paesi europei iniziato all'inizio degli anni 90 che ci hanno dato delle informazioni sulla loro vita ci hanno dato dei campioni di sangue che conserviamo a bassissima temperatura e noi poi andiamo a confrontare di queste persone chi poi si ammala o chi muore di una determinata malattia e chi aveva la stessa età lo stesso sesso le stesse caratteristiche sociologiche e non muore e andiamo a vedere che differenza c'era per esempio nella loro dieta nella loro alimentazione tra chi si ammala chi non si ammala che cosa c'era nel sangue di chi si ammala e non si ammala è uno studio che ci ha permesso di fare delle osservazioni importantissime adesso si stanno facendo studi di questo tipo un po' in tutto il mondo e guardate ecco classificando le persone in funzione della adesione alle raccomandazioni del codice europeo contro il cancro vedete come si riduce la mortalità la mortalità totale all'aumentare della adesione alle raccomandazioni e chi rispetta cinque raccomandazioni a parità di sesso e di età muore il 33% in meno ed è il anche più controllando anche per il tabacco per numerosi altri fattori questo è uno studio americano che ha studiato la mortalità per cancro in funzione dell'adesione alle raccomandazioni e qui vedete chi non aderisce proprio a nessuna sono quegli americani che sono grassi non fanno mai attività fisica mangiano schifezze tutti i giorni però però anche confrontando chi rispetta soltanto una o due raccomandazioni in rapporto a chi ne rispetta di più vedete si dimezza la mortalità la mortalità per cancro e verosimente si dimezza perché ci si ammala di meno e se ci si ammala si guarisce più facilmente questo è un pittogramma cinese che rappresenta vedete andando in giro proprio lì nel sentiero per la Nappurna ho visto questo portatore che normalmente usano un altro sistema i portatori però ci sono ancora queste che hanno una canna di bambù sulle spalle a cui sono appesi due cesti è un'immagine molto comune nelle risaie della Cina dove si vedono queste immagini e ci deve essere un perfetto equilibrio fra questi due cesti vedete questa è la canna di bambù e questi sono i due cesti e questa è l'interazione che ci deve essere l'equilibrio la risonanza che ci deve essere fra questi due cesti devono essere in perfetto equilibrio per poter intraprendere la via la strada la strada del Tao questo è il simbolo del Tao ed è interessante tutte le cose del mondo possono essere classificate in termini di energia maschile ed energia femminile energia riscaldante energia rinfrescante energia contraente energia espansiva anche gli uomini possono essere classificati così vedete un uomo molto lungilineo uno che ha gli uomini che hanno questa faccia un po' come la mia se mi togliete la barba io la faccio fatta come un triangolo con un vertice in basso il triangolo con i vertici in basso è il simbolo dell'energia yin dell'energia femminile il triangolo con la base in basso invece è un simbolo dell'energia maschile dell'energia molto determinata e questo invece è un'energia piuttosto rilassante pensate per esempio pensate Berlusconi Berlusconi ha una forma yang è un triangolo con il vertice in basso guardate l'onorevole Fini vi ricordate dell'onorevole Fini invece lui è proprio una faccia triangolo con un vertice in basso un po' come la mia non ce l'avrebbe mai fatta l'onorevole Fini contro Berlusconi perché questo è ebbene anche i cibi anche i cibi si possono classificare in termini di yin e di yang e la raccomandazione delle filosofie orientali per esempio la raccomandazione della macrobiotica è di cercare un equilibrio fra lo yin e lo yang perché altrimenti ci squilibriamo altrimenti non funzioniamo bene e guardando le raccomandazioni cambiando l'ordine evitate le bevande zuccherate sono estremamente yin i cibi vegetali generalmente sono yin i cibi animali sono yang limitate le bevande alcoliche l'alcol è molto yin limitate i cibi ad alta densità calorica evitate le carni conservate le carni salate il sangue è molto yang limitate il sale limitate le carni rosse e se voi in fondo guardate la gastronomia tradizionale l'equilibrio perfetto è la pasta e fagioli la nostra meravigliosa pasta e fagioli cereali e legumi i semi sono yin perché sono vegetali ma sono yang perché sono piccoli e concentrati e quindi sono estremamente equilibrati di per sé i cereali un po' più yang i legumi un po' più yin si equilibrano perfettamente i pesci sono un po' più yang sono prodotti animali e quando si mangia un pesce spesso si mangia con una patata bollita per equilibrare quando si mangia la carne la si mangia magari con un bicchier di vino per cercare di equilibrare quando si mangia il prosciutto molto yang la carne rossa salata si mangia il melone prosciutto e melone e se non avete il prosciutto per mangiare il melone si mette il sale in Sicilia quando si mangia l'arancio quando si mangiava l'arancio in Sicilia si metteva il sale proprio per equilibrare le energie diverse dei cibi e se voi mangiate l'hamburger di McDonald che è una carne rossa molto squilibrata verso lo yang verso l'energia contraente e poi scaldata ad altissima temperatura quindi c'è un doppio yang e dovete per forza equilibrarla con una coca cola con ghiaccio doppio yin sapete quando si va in America tutte le volte che ordinate da bere prima vi riempiono i bicchieri di ghiaccio e poi mettono il liquido perché loro hanno bisogno di ghiaccio hanno bisogno di ghiaccio perché mangiano un'enorme quantità di carni rosse una cosa esageratamente riscaldante richiede qualcosa di esageratamente rinfrescante ma è difficile equilibrare l'hamburger con la coca cola io vi propongo di equilibrare i cereali con i legumi ed è la dieta mediterranea tradizionale si è parlato molto di dieta mediterranea ultimamente quando l'organizzazione mondiale della sanità ha classificato i salumi come un cibo cancerogeno e le carni rosse come un cibo probabilmente cancerogeno per l'uomo e allora ci sono state tutte queste prese di posizioni ma anche nella dieta mediterranea tradizionale c'è la carne è vero c'è magari una volta al mese e questa è adesso non potete probabilmente leggere accuratamente ma è la descrizione originale del dottor Kiss Ansel Kiss il medico che ha inventato il termine di dieta mediterranea lui era un medico americano che è venuto in Italia durante la guerra ed era rimasto molto colpito che a Napoli dove era sbarcato negli ospedali napolitani non c'era non c'era nessuno malato di infarto mentre invece in America l'infarto era già una malattia molto comune e aveva ragionato che magari questo modo di mangiare del del cilento in particolare lui aveva studiato l'alimentazione del cilento poteva essere protettivo e il cilento si mangiavano cereali integrali legumi verdure frutta frutto le aginose e dice la carne il pesce il latte il formaggio le uova erano definitamente dei lussi e si mangiavano soltanto eccezionalmente noi abbiamo classificato le 50.000 persone italiane che partecipano al progetto EPICA questo grande progetto europeo con un punteggio proprio abbiamo letto i loro questionari alimentari abbiamo letto un punteggio di dieta mediterranea e chi si avvicina più vedete alla dieta mediterranea riduce drammaticamente la sua mortalità per cancro dell'intestino rispetto a chi ha un punteggio soltanto di 1 ma chi ha un punteggio di 8-10 ha una mortalità che è un terzo un'incidenza proprio la probabilità di ammalarsi si riduce a un terzo abbiamo studiato l'ictus cerebrale in rapporto al punteggio mediterraneo vedete come si riduce il rischio di avere un ictus perché si riduce la pressione migliora lo stato di coagulazione del sangue e quindi si riduce l'ictus si sa da oggi che con il cibo possiamo modificare l'attività dei nostri geni sapete i nostri geni il nostro DNA è questa lunghissima molecola che dà le informazioni per funzionare al corpo sapete l'abbiamo letta tutta è una lunghissima molecola che è fatta di quattro molecole diverse come se fossero quattro lettere dell'alfabeto e raggruppandosi a tre a tre queste lettere danno le istruzioni per fabbricare le proteine e c'è una sequenza di tre miliardi di queste lettere si chiamano basi le basi del DNA in ciascuna delle nostre noi siamo fatti di cellule tutti deriviamo da un'unica cellula ma un uomo adulto è fatto da 50.000 miliardi di cellule e in ciascuna delle nostre cellule c'è una coppia di questo DNA di tre miliardi di basi che dà le istruzioni alla cellula per funzionare per darvi un'idea di che cosa sono tre miliardi nella pagina di questo libro ci sono tre mila lettere quindi in un libro di mille pagine cioè spesso tre volte questo ci sono tre milioni di lettere in mille libri di mille pagine ci sono tre miliardi di lettere in ciascuna delle nostre cellule c'è un'enciclopedia di mille volumi e si pensava che lì fosse scritto tutto ci si era illusi che leggendo il DNA avremmo capito tutto della vita avremmo risolto i problemi delle malattie croniche avremmo capito del cancro e quando abbiamo letto tutto il DNA era il 2001 alla fine del 2001 è stato annunciato che abbiamo letto tutte le tre mila basi ci siamo accorti che le cose sono enormemente più complicate che soltanto si pensava che noi avessimo centomila geni perché abbiamo circa centomila proteine diverse invece abbiamo scoperto che abbiamo soltanto 25 mila geni i geni sono un tratto del DNA che dà le istruzioni per fabbricare una proteina ne abbiamo soltanto 25 mila pensate nella piantina del grano ci sono 50 mila geni e noi abbiamo soltanto 25 mila geni e questi 25 mila geni costituiscono solo il 3% del nostro DNA e cosa serve il 97% del nostro DNA si sta scoprendo che questo 97% contiene milioni e milioni di interruttori per accendere e spegnere i nostri geni e per modificarne l'attività e si sta scoprendo che le sostanze dei nostri cibi hanno proprio l'azione di accendere e spegnere i nostri geni per esempio qui ho fatto un elenco di sostanze è la genisteina della soia la curcumina della curcuma le epigallocatechine del tè il solforafano che sta nei cavoli il resveratrolo che sta nell'uva che sta nelle arachidi il selenio il dialil solfato delle cipolle dell'aglio queste sostanze agiscono modificando l'azione accendendo e spegnendo i nostri geni ed è un'osservazione importantissima ci sono proprio i geni possono essere spenti attraverso la metilazione attacchiamo un metile alle basi del DNA e il gene non viene letto i geni possono essere aiutati ad esprimersi acetilando le proteine su cui questi geni sono avvolti sono queste palline gialle vedete su cui si avvolge il DNA se sono acetilate il gene può essere letto se non sono acetilate il gene non può essere letto e poi in questo 97% del DNA è in grado di produrre dei piccoli frammenti di RNA che non servono per fabbricare proteine ma che danno delle istruzioni ne conosciamo già duemila diversi ed è un campo di grandissima espansione della conoscenza e anche lì sappiamo che il nostro modo di nutrirci attiva o disattiva alcuni di questi microRNA per esempio la nostra dieta accendentale attiva il MIR 145 MIR si chiamano questi microRNA cioè inattiva il MIR 145 mentre il digiuno lo migliora nei nostri studi abbiamo visto che nel sangue delle donne che poi si sono ammalate di cancro della mammella per esempio questo MIR 145 è molto basso e allora possiamo cercare di tenerlo alto e possiamo fare qualcosa anche con il nostro cibo le cose sono estremamente complicate sappiamo che la dieta mediterranea riduce l'espressione di microRNA che promuovono l'infiammazione sapete l'infiammazione è una difesa dell'organismo è una difesa ma è un'arma a doppio taglio quando ci feriamo arrivano le cellule dell'infiammazione si mangiano i microbi e queste cellule producono delle sostanze chimiche che comandano i tessuti vicini di riparare il danno e dopo una settimana dieci giorni tutto torna come prima è la meravigliosa capacità di riparazione che hanno i nostri organi ma quando per esempio la spina che danneggia il nostro tessuto la spina irritativa è un tumore che sta crescendo anche lì arrivano le cellule dell'infiammazione cercano di mangiarsi il tumore qualche volta ci riescono ma se non ci riescono credendo di far bene producono queste sostanze che stimolano la proliferazione cellulare è allora il tumore che cresce ne approfitta il tumore è stato detto una metafora che il tumore è come una ferita che non può guarire perché più cerchiamo di farla guarire più ne stimoliamo la crescita ebbene con la nostra alimentazione noi possiamo andare a modificare questo ambiente interno dell'organismo modificando centinaia migliaia di punti del DNA che possano lavorare per noi beh in poche settimane proprio si vede che la dieta mediterranea è in grado di modificare la produzione di questi microRNA adesso non entro nel dettaglio di questi studi uno dei risultati che più mi ha affascinato del nostro progetto EPIC è stato quello che è illustrato in questa diapositiva già da tempo si sapeva che a parità di sigarette fumate chi mangia tanta frutta e verdura si ammala meno di cancro del polmone di mezzo al suo rischio circa il 20% dei fumatori si ammalano di cancro del polmone ma se mangi tanta verdura e frutta tutti i giorni di mezzi solo più il 10% che è ancora tantissimo naturalmente chi non fuma è meno dell'1% dei non fumatori che si ammalano di cancro del polmone nel corso della vita ma quello che abbiamo potuto vedere con lo studio EPIC cioè avendo un gran numero di persone che si sono ammalate di cancro del polmone è che a parità di quantità di verdure e frutta consumata la varietà delle verdure e della frutta riduce ancora il rischio la conclusione è che dobbiamo avere una varietà di non mangiare sempre soltanto le stesse cose tutti i giorni gli italiani si che mangiano tante verdure sono patate e pomodori tutti i giorni dell'anno no non va bene bisogna mangiarle adesso siamo appena usciti dal periodo più bello dell'orto il periodo invernale adesso invece l'orto è un pochino più sgalfio la primavera non è granché ma l'inverno è meraviglioso l'inverno ha tutte le varietà di cavoli cavoli fiori cavolo verza cavolo cappuccio il cavolo rapa le rape il dai con il broccolo il broccolo le cime di rapa il carciofo invernale il finocchio la zucca ma che meraviglia ma bisogna mangiarle tutte queste cose qua e tutte quelle che ogni stagione produce la varietà è estremamente importante perché se noi mangiamo vario noi siamo sicuri che non ci manca niente e che non abbiamo troppo di qualche cosa sapete che ci sono queste intolleranze alimentari c'è un sacco di gente che soffre di intolleranze alimentari ma cosa cavolo sono queste intolleranze alimentari la scienza medica non ha ancora capito niente di queste intolleranze alimentari però è vero ci sono delle persone che stanno male perché mangiano e in genere a che cosa siamo intolleranti i due cibi a cui siamo più frequentemente intolleranti sono il glutine cioè i cibi ricchi di glutine perché lo mangiamo tutti i giorni mangiamo tutti i giorni il pane tutti i giorni la pasta e il pomodoro perché lo mangiamo tutti i giorni e allora l'organismo ti dice eh basta datti inaregolati infatti queste persone tolgono il glutine e tolgono il pomodoro per un po' e stanno subito bene dobbiamo avere una varietà di cibi cambiare la via del movimento e anche la via del cambiamento e cito queste due frasi di due grandi ricercatori Claude Bernard nel secolo scorso quelli che pensiamo di conoscere il grande ostacolo all'acquisizione di quelli che non sappiamo ancora e Jim Watson è stato quello che ha scoperto la struttura del DNA nel 1953 ha pubblicato il suo articolo 60 anni dopo dice il più grande ostacolo per procedere efficacemente contro il cancro può venire dalla natura inerentemente conservatrice delle istituzioni di ricerca sul cancro che non vogliono perché lui lui ha detto il DNA la conoscenza del DNA ci ha permesso di capire molti meccanismi del cancro ma non ci porterà ad una cura del cancro quando il cancro è avanzato quando il cancro è data metastasi ci sono dei nuovi farmaci che hanno successo che prolungano la vita ma che non guariscono in questi anni di ricerca io ho concluso di dare queste raccomandazioni ai malati di tumore e c'è ancora grandissima resistenza nell'ambiente medico perché noi medici siamo profondamente ignoranti sull'alimentazione non la studiamo a scuola io prendo sempre in giro i gastroenterologi i gastroenterologi studiano 6 anni di medicina e poi 5 anni di specializzazione in gastroenterologia sanno tutto sanno usare dei farmaci potentissimi e in questi 11 anni di scuola non hanno neanche un'ora di lezione sul cibo perché cosa c'entra il cibo con l'apparato gastroenterico e non sanno dare consigli alimentari fondamentalmente allora cosa diciamo noi ai malati di cancro diciamo di tenere bassa la glicemia nel sangue perché le cellule tumorali per vivere consumano anche 100 volte più glucosio delle cellule normali perché non sapete tutte le nostre cellule vivono bruciando glucosio glucosio più ossigeno anidride carbonica acqua ed energia in tutte le nostre 50.000 miliardi di cellule quotidianamente bruciamo glucosio le cellule tumorali invece non lo bruciano completamente lo spezzano solo in due e invece di produrre con una molecola di glucosio 36 unità di energia producono solo due unità di energia quindi hanno bisogno di un'enorme quantità di glucosio e fanno questo perché vogliono utilizzare i pezzi della molecola di glucosio per costruire nuove cellule per costruire nuove proteine nuovi grassi e noi sappiamo che chi ha la glicemia bassa si ammala meno di cancro l'altro fattore che diciamo è per tenere bassa la glicemia bisogna ridurre i cibi che fanno aumentare tanto la glicemia che sono le farine raffinate lo zucchero il pane bianco il riso bianco raccomandiamo di tenere bassa l'infiammazione e per tenere bassa l'infiammazione bisogna ridurre il cibo animale eccetto il pesce perché i grassi delle carni favoriscono contengono i precursori delle molecole dell'infiammazione il grasso del pesce contiene i precursori delle molecole antinfiammatorie e per tenere bassa nel sangue anche i fattori di crescita quindi i fattori che stimolano i fattori che fanno crescere i bambini sapete quando non ci sono proteine da mangiare i bambini non crescono le proteine ci vogliono nella nostra vita ma noi ne mangiamo troppe ne mangiamo circa il doppio delle proteine di cui abbiamo bisogno meglio ridurre le proteine in particolare le proteine del latte le proteine del latte fanno aumentare il latte è un alimento per far crescere e quindi io prudenzialmente raccomando ai malati di tumore di non bere latte proprio nel 2002 abbiamo pubblicato per la prima volta questa osservazione di come aumenta il rischio di cancro della mammella in funzione della glicemia le donne che hanno la glicemia ma all'interno dei valori normali sapete la glicemia sta fra 70 e 110 i valori normali sono le donne che hanno la glicemia alta hanno un rischio doppio di ammalarsi rispetto alle donne che hanno la glicemia bassa all'interno dei valori normali ci sembrava un risultato importantissimo ma quando l'abbiamo pubblicato era appena stato annunciato la mappatura del genoma umano e nel mondo degli oncologi come dicono i ragazzi oggi non ci ha cagato nessuno chi se ne frega della glicemia quando adesso abbiamo la possibilità di fare dei farmaci per salio molecolare meravigliosi che potranno curare il cancro ah se mi avvicino così sentite beh se aspettate ancora tre quarti d'ora dirmelo allora adesso quando mi dimenticherò e allontano il microfono voi intervenite subito e allora poi siamo andati a vedere le donne che si sono ammalate di cancro della mammella se al momento in cui si sono ammalate avevano la glicemia alta come era la loro prognosi e guardate in questo studio che effetto drammatico che ha la glicemia le donne diabetiche si ammalano un po' di più ma è soprattutto la glicemia alta all'interno dei valori normali che favorisce la crescita tumorale questo è un studio sul nostro progetto EPIC in Italia le 50.000 persone italiane e mostra come ci si ammala di cancro dell'intestino in funzione del consumo di cibi ad alto indice glicemico e la colonna arancione invece in rapporto al consumo di carboidrati ma a basso indice glicemico cioè i cereali integrali i legumi le verdure fanno alzare poco la glicemia le farine raffinate il pane bianco i dolciumi i commerciali fanno alzare tanto la glicemia vedete come ci si ammala di cancro dell'intestino questo è uno studio americano che mostra i pazienti con cancro dell'intestino quanto muoiono in funzione del carico glicemico della dieta di quanto è ricca la loro dieta di cibi che fanno alzare tanto la glicemia questa è una studio sempre dell'università di Harvard sulle persone con cancro dell'intestino che mostra quanto muoiono in funzione del numero di lattine di bevande zuccherate che bevono al giorno quindi ci sono sempre più dati che mostrano che bisogna stare attenti agli zuccheri agli zuccheri che fanno alzare tanto la glicemia la via del movimento il movimento è estremamente importante questa è la mia sposa che si avvia verso il campo base della napurna vedete e questa è una meta analisi cioè un'analisi di tutti gli studi che hanno guardato la mortalità in funzione dell'attività fisica e vedete come si riduce progressivamente la mortalità abbassando cioè aumentando l'attività fisica qui siamo già semplicemente con ah qua c'è un piccolo errore si sono eslittati un po' a sinistra con 20 minuti al giorno riduciamo del 20 minuti 20 minuti al giorno di attività fisica un po' impegnativa di una passeggiata col passo veloce riduciamo del 20% la mortalità se facciamo tra 30 minuti e un'ora riduciamo del 30% la mortalità ma alla fine moriamo tutti vuol dire a parità di età a quell'età muori il 30% in meno e poi aumenta ancora la protezione con qui siamo fra 60 e 90 minuti qui siamo oltre 90 minuti e qui siamo a 300 minuti poi magari non è significativa la differenza ma forse è bene non esagerare insomma quindi questa strada per il campo base della Napurna dove facevo 5, 6, 7 ore di cammino al giorno va bene farlo per 10 giorni ma è come non però 20 minuti al giorno 30 minuti al giorno di sport e dici ma io non ho tempo ma passi delle ore a guardare la partita alla televisione valla a fare tu la partita la gente mi dice ma io non ho tempo di cucinare e poi mi guardano tutti i programmi televisivi del cuoco del master chef di queste cose qua tutti abbiamo 30 minuti al giorno per fare poi voi siete anche facilitati qui a Osta rispetto a noi a Milano l'esercito fisico ha la potenza di ridurre lo stato infiammatorio ci sono tanti meccanismi qui non entro adesso per come fa ma abbiamo mandato il Davide negli Stati Uniti per una mostra guardate come ce l'hanno restituito ce l'hanno restituito con la pancia con la pressione alta con i trigliceridi alti con la glicemia alta e con il colesterolo buono basso sono i fattori della sindrome metabolica sapete questo è il nostro studio epico anche siamo andati a vedere quanto muoiono i grassi quanto muoiono i magri e questa è la mortalità in funzione dell'indice di massa corporea l'indice di massa corporea si calcola dividendo il peso in chilogrammi per l'altezza al quadrato per esempio un ragazzo che pesa 100 kg ed è alto 2 metri voi fate 100 diviso 2 al quadrato 100 diviso 4 indice di massa corporea 25 25 è il limite tra il normo peso e il sovrappeso chi è più di 25 è in sovrappeso chi è più di 30 è obeso riguardando la mortalità è venuto fuori questa cosa che io non mi aspettavo così netta che la mortalità più bassa sia negli uomini sia nelle donne e chi ha un indice di massa corporea di 24 25 e io che ho un indice di massa corporea di circa 20 per portarmi qua a dover rimettere su 10 kg ma non mi sembra che sia una cosa corretta mettere su 10 kg poi naturalmente poi quando si ingrassa il rischio è maggiore ma cos'è questa storia che questi magri magri, magri questi snelli come me muoiono come i grassi che hanno un indice di massa corporea di 33 in realtà tutto è spiegato dal fatto che chi muore tanto fra i magri sono i magri con la pancia perché se noi guardiamo la mortalità in funzione della circonferenza vita a parità di indice di massa corporea naturalmente chi è grande ha una grande circonferenza vita chi è piccolo ha una piccola circonferenza vita ma a parità di indice di massa corporea la mortalità cresce linearmente con la circonferenza vita e questo proprio perché chi muore di più sono i magri ma che hanno la pancia e chi muore tanto come i grassi veri questa è la mortalità per cancro questi sono i grandi studi dell'università di Harvard su 100.000 anzi adesso sono 160.000 infermieri americane che seguono ormai da sono quasi 40 anni che hanno cominciato questo studio la mortalità per cancro in funzione della circonferenza vita a parità di indice di massa corporea per questo si dice manteniamo la vita snella e gli uomini sapete versi 40 anni cominciano a mettere su pancia le donne no e le donne mettono su pancia dopo la menopausa quando vengono a mancare gli ormoni femminili allora anche loro ingrassano come ingrassano gli uomini cioè mettono sulla pancia la pancia è il principale fattore della sindrome metabolica gli altri fattori vi dicevo sono la glicemia un po' alta la pressione un po' alta i trigliceridi un po' alti il termine di sindrome metabolica è stato inventato dai diabetologi negli anni 70 perché avevano visto che chi ha queste condizioni si ammala di più di diabete ma si ammala anche di più di infarto ma oggi sappiamo che gran parte delle malattie croniche di oggi le patologie croniche degli occhi le retinopatie la cataratta l'alzheimer anche la bronchite cronica parità di sigarette fumate a chi ha la sindrome metabolica si ammala di più i calcoli al fegato l'iperplasia della prostata il fegato grasso e il calco negli ultimi dieci anni si è chiarito che chi ha la sindrome metabolica si ammala di più di cancro del fegato del colon della mammella della prostata dell'endometrio del pancreas del rene della vescica e di altri siamo stati primi a mostrare che nel progetto Diana proprio che le donne che hanno la sindrome metabolica si ammalano di più di cancro della mammella le donne che hanno dopo la menopausa questo è molto chiaro prima della menopausa il fatto di essere grassi non aumenta il rischio di cancro della mammella quindi la soluzione dovrebbe essere anzi le donne grassi prima della menopausa si ammalano un pochettino di meno per cui siate belle grasse prima della menopausa e belle magre dopo è facile no? meglio essere magri sempre credevo di avere un'altra diapositiva adesso l'ho persa perché abbiamo visto questo fenomeno sul ah sì 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 certo parlavo del cancro della mammella ma questo è proprio lo studio Diana V lo studio che stiamo facendo adesso dimostriamo che le donne che hanno avuto il cancro della mammella e che avevano la sindrome metabolica quando le abbiamo reclutate nel nostro studio hanno un rischio più di doppio di sviluppare delle metastasi per cui la nostra intenzione è di fare regredire la sindrome metabolica e si può modificando l'alimentazione si può tornare indietro la terza via è la via spirituale la meditazione perché che siamo credenti o meno nel nostro cervello ci sono tutte le tracce delle tradizioni spirituali dei simboli dei riti dei tabù delle paure e quindi dobbiamo sapere che noi dobbiamo lavorare sul nostro cervello primitivo sul nostro cervello limbico per togliere delle tracce che favoriscono la malattia in questa diapositiva vi mostro le tecniche che ci sono oggi per analizzare i nostri geni vedete ogni riga verticale è una persona e quando c'è un numerino rosso sopra è prima di una fase di pratica meditativa e le righe blu sono le colonne blu sono dopo la pratica meditativa le righe orizzontali sono dei geni e quando i geni sono rossi vuol dire che sono attivi quando sono verdi vuol dire che non sono attivi e vedete che c'è una grande differenza fra prima e dopo la meditazione con la meditazione noi riusciamo ad agire su centinaia dei nostri geni di alcuni si conosce già l'azione in particolare sappiamo che si riducono i geni dell'infiammazione c'è una frase del Vangelo che mi ha sempre colpito che non riusciva a capire che cosa voleva dire ma perché mai Gesù diceva ma agli altri parlo in parabole perché guardino e non vedano ascoltino e non capiscono ma che cavolo di stupidaggine è questa mi dicevo invece no perché Gesù con le parabole non parla la nostra corteccia cerebrale parla le nostre emozioni parla il nostro cervello antico il nostro cervello limbico abbiamo quasi finito il nostro sistema nervoso è qualcosa di assolutamente affascinante e qui volevo illustrarvi il meccanismo dello stress cronico sapete lo stress è una difesa dell'organismo è quando usciamo di casa e incontriamo l'orso e ci viene un terribile stress e questo attiva il nostro sistema simpatico e il nostro sistema simpatico attiva il cuore attiva i polmoni blocca tutte le attività digestive blocca tutte le cose che non servono comanda il fegato di mettere zucchero nel sangue perché abbiamo bisogno di zucchero nel sangue per scappare ma oggi però lo stress ci viene non perché incontriamo l'orso ma perché incontriamo il capufficio tutti i giorni e ci fa venire un grande stress perché perché ci sono tanti fattori e allora lì noi ci troviamo con questo stimolo di stress che non riusciamo a smaltire come una bella corsa non possiamo prendere a pugni il capufficio e questo stress cronico ha un effetto di stimolare cronicamente il nostro sistema simpatico e il sistema è molto bello proprio perché è di una complessità estrema e lo stress inibisce la corteccia prefrontale ma la corteccia prefrontale ha la funzione di inibire l'amigdala allora l'amigdala è molto attiva l'amigdala ha la funzione di inibire il tratto solitario così il tratto solitario non è più attivo ma il tratto solitario inibisce il sistema simpatico così il sistema simpatico è costantemente molto attivo e se è molto attivo siamo sempre in tensione dobbiamo attivare invece il nervo vago è un nervo che esce dal nostro cervello e che va a tranquillizzare tutti i nostri organi e in particolare l'attivazione del sistema simpatico l'insufficienza del sistema parasimpatico favorisce l'infiammazione che è uno dei grandi meccanismi l'infiammazione cronica che favorisce lo sviluppo dei tumori tutti noi abbiamo un po' di infiammazione anche quando non abbiamo nessuna malattia infiammatoria e oggi sappiamo che per attivare il vago che va a ridurre lo stato infiammatorio serve la dieta mediterranea serve mangiare poco serve l'esercizio fisico servono alcune pratiche che ci vengono dalla cultura orientale lo yoga lo shatsu la meditazione quando ci sai molte pratiche di meditazione sono delle pratiche di respiro di rallentare il nostro ritmo di respiro c'è uno studio bellissimo che ha mostrato che ha confrontato gli effetti dei mantra orientali il mantra tibetano classico quello che dice questo vuol dire minchino ammiro il meraviglioso gioiello nel fiori di loto il fiori di loto è un simbolo bellissimo della filosofia orientale il fiori di loto immerge le sue radici nel fango ma in superficie poi genera un fiore bellissimo ebbene ha studiato gli effetti di questo mantra e ha studiato gli effetti anche della recitazione dell'Ave Maria in latino Ave Maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieri benedictus fructus ventis tui Iesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nuncet in ora mortis nostre amen tutti e due questi sistemi riducono la nostra frequenza di respiro che in genere facciamo 12 respiri al minuto lo riducono a 6 e questo effetto di ridurre il respiro a 6 riduce l'infiammazione sapete il rosario è arrivato in Europa con le crociate i crociati l'hanno imparato dagli arabi gli arabi l'avevano imparato dai tibetani pare che non funzioni tanto l'Ave Maria in italiano io raccomando i nostri preti di tornare l'Ave Maria in latino tranquillizza di più in questo diapositivo ho riassunto per ogni tipo di tumore se ci sono degli studi ah guardate c'è tutto c'è un certo slittamento questa qui è l'obesità questa qui è la glicemia questi sono i fattori di crescita questa è la PCR la PCR è un esame che si fa per vedere se c'è un'infiammazione in corso i valori normali stanno fra 0 e 5 quando ci viene una bronchite sale su a 20 25 ma tutti noi abbiamo una PCR che sta fra 0 e 5 ma chi ha la PCR più verso il 5 si ammala di più chi ha la PCR più verso il 0 si ammala di più e guardate per tutti i tumori ci sono delle indicazioni che se la PCR è più alta anche all'interno dei valori normali la proniosi è peggiore dobbiamo tenere basso l'infiammazione e possiamo farlo con il cibo possiamo farlo con il movimento e possiamo farlo con la meditazione questo per esempio è uno studio è uno dei tanti studi che hanno mostrato come aumenta il rischio di recidive dei tumori della mammella in funzione del livello della PCR della proteina C-reattiva è questo adesso non entriamo nel dettaglio perché è un po' tardi è uno studio che mostra che con la meditazione noi abbassiamo la PCR e abbassiamo i geni che governano l'infiammazione e questa è l'ultima diapositiva che l'ho messa perché perché ho letto sulla stampa questa notizia di questa ricerca negli Stati Uniti in cui allevavano queste arvicole questi topolini e se ne togli uno dalla gabbia e gli causi un sacco di problemi di stress lo fai nuotare lo tratti male gli dai la scossa e poi lo rimetti nella gabbia gli altri topolini vanno subito a consolarlo nel senso che gli esprimono una empatia se togli un topolino dalla gabbia e lo metti in un'altra gabbia dove sta benissimo dove non c'è nessun problema quando lo rimetti nella gabbia gli altri topolini lo ignorano non frega assolutamente niente ebbene ci sono degli studi sull'uomo ci sono degli studi che mostrano che chi ha un atteggiamento di compassione verso se stesso e che riduce i geni dell'infiammazione e questa è una cosa molto importante quando abbiamo delle persone stressate esprimiamo una compassione una compassione nel senso buddista una empatia nei loro confronti è molto importante l'empatia del medico che è capace di tranquillizzare soltanto con la sua presenza io ho notato una cosa nella mia esperienza ho lavorato tantissimo nei cancro della mammella che le donne che hanno avuto il cancro della mammella rispetto ai loro medici amano molto più il chirurgo che non l'oncologo medico anche se lo vedono più frequentemente l'oncologo medico perché il chirurgo in fondo sì perché naturalmente ha fatto l'atto di base di togliere fisicamente il cancro no? perché il chirurgo in genere ha un atteggiamento molto positivo molto consolatorio io ti guarisco o qualcosa del genere ha un sorriso ha una cosa che mentre l'oncologo medico che è sempre lì in mezzo a un sacco di problemi in genere ha una faccia un pochino più più triste no? ed è l'empatia è importantissima per la guarigione e l'empatia la possono dare i medici me la possono dare i familiari la possono dare un enorme meraviglioso ruolo degli infermieri va bene scusate io sono un grande chiacchierone ho parlato per un'ora buona e forse bene che la smetta e vi ringrazio dell'attenzione grazie professore grazie noi l'avremmo ascoltata ancora per un'altra ora capiamo è stato un intervento naturalmente affascinante e credo che abbia stimolato parecchia curiosità e spunti per fare delle domande quindi iniziamo a fare delle domande e pregherei Jenny e Cristina di girare col microfono se ce l'avete sì ci sono domande? sì buonasera la mia domanda era questa relativamente ai cereali integrali allora i cereali integrali hanno il problema che se diciamo vengono coltivati mantenendo dei residui diciamo di fitochimici finiamo per mangiarceli insomma questi studi fatti contemplavano dei cereali integrali biologici piuttosto che invece insomma tradizionali no no non si è non ci sono di fatto degli studi che hanno considerato il confronto fra mangiare cibo biologico e non biologico e sono pochissime le persone che mangiano cibo biologico per cui il nostro ragionamento sui rischi da pesticidi è in gran parte un ragionamento di estrapolazioni noi sappiamo che i contadini si ammanano di più di cancro non sappiamo quanto i residui dei pesticidi nel nostro cibo aumenti il nostro rischio c'è un unico studio che io conosca che ha cercato di valutare questo nella popolazione generale ed è lo studio del cosiddetto studio del million women del milione di donne inglesi che vanno a fare la mammografia periodicamente e a cui che hanno compilato un questionario sul e il questionario comprendeva anche delle domande sul fatto se lei mangia abitualmente cibo biologico sempre qualche volta mai ma era una piccola proporzione di queste donne inglesi che mangiavano regolarmente cibo biologico la cosa interessante è che l'unico tumore che questo studio ha mostrato di cui si ammalano meno le donne che mangiano cibo biologico sono i linfomi ed è molto interessante perché i linfomi è il tumore più frequente nei contadini in rapporto all'esposizione dei pesticidi lei ha perfettamente ragione che se mangiamo i cereali integrali invece che i cereali raffinati è molto meglio prendere i cereali biologici che costano un pochettino di più ma mica tanto di più nei negozi biologici sapete in questi negozi di gran lusso dove ci sono migliaia di prodotti biologici io ci vado per comprare i cereali i legumi qualche volta compro questi latti di cereali ma in genere me lo faccio in casa e compro la frutta e la verdura e non compro tutte queste cose carissime oltretutto di trasformazioni dei cibi biologici per cui il consiglio è sì effettivamente i cereali integrali è meglio che siano biologici le verdure se potete la cosa migliore è avere il proprio orto e andarsela raccogliere tutti i giorni ma se avete la possibilità di comprare le biologiche in linea di massima è meglio ma i residui dei pesticidi sulle verdure sono veramente minimi ci sono molti più pesticidi nel latte molti più pesticidi nella carne perché gli animali accumulano i veleni nel loro corpo e quindi comunque lei ha perfettamente ragione per i cereali è meglio prenderli i biologici è più prudente anche se non ci sono delle prove sicure che ci farebbero male come dici? consumati e conservati in maniera diversa da quelli ah certamente ma sapete qual è il motivo per cui si raffina tanto il motivo per cui si fa la farina zero zero perché non va mai a male cioè la farina zero zero la puoi tenere lì degli anni ed è sempre uguale a se stessa la farina integrale dopo un mese o due ti fa le farfalline ma nessuna farfallina sarebbe così stupida ad andare a mettere le sue uova nella farina zero zero o nel riso bianco il riso bianco non va mai a male ma il riso integrale va male ti fa i vermi per cui i cereali integrali devono essere conservati devono essere consumati rapidamente e quindi questo è un grosso problema per l'industria per la distribuzione perché rischia di andare male delle derrate alimentari è solo per questo che mangiamo i cibi raffinati non certo perché sono più buoni sono molto più buoni i cibi integrali Buonasera io volevo fare una domanda e poi una considerazione la domanda è cosa ne pensa dell'assunzione di alimenti di sali minerali di bicarbonato possibilmente senza sodio quindi questi sali minerali alcalinizzanti e la considerazione che invece volevo fare è sulla prevenzione quindi legata alle scuole se la prevenzione deve partire dalle scuole e i menù sono quelli che ci sono oggi io da mamma faccio una grandissima fatica a continuare a far mangiare mia figlia in modo sano quando lei mi dice questo riso è duro la verdura non gli piace perché finché non è andata a scuola per lei le caramelle erano l'uva passa adesso no è molto importante questa osservazione la mia associazione assieme all'associazione e all'ordine dell'universo hanno proposto questo questo movimento che si chiama coordinamento cambiamo le mense se voi andate www.coordinamento cambiamo la mense trovate tutta una serie di indicazioni da utilizzare per fare pressione sulle amministrazioni delle asle dei comuni delle scuole per modificare la mensa dei bambini a scuola dove ci sono alcune cose che sono veramente importantissime una è quella di togliere le carni conservate ma io dico che si possono anche mangiare le carni conservate però l'organizzazione mondiale della sanità ha stabilito sulla base di ricerche inconfutabili che favoriscono i tumori allora non deve essere l'istituzione che dà il prosciutto cotto ai bambini a scuola non ha senso se i genitori vogliono dare il prosciutto cotto possono fare quello che vogliono ma non può essere l'istituzione che lo fa l'altra cosa è di ridurre il cibo animale i nostri bambini mangiano più del doppio delle proteine di cui hanno bisogno se se mangiassero quello che gli si dà a scuola sulla base delle indicazioni ministeriali sono delle indicazioni e non sono delle leggi ma sono sbagliate sono assolutamente obsolete se mangiassero tutto quello che gli diamo loro avrebbero già mangiato nel pasto di mezzogiorno tutte le proteine di cui hanno bisogno nella giornata non dovrebbero mangiare proteine e sono soprattutto proteine animali nel pasto dei nostri bambini ci sono proteine animali tutti i giorni carne bianca la carne rossa il salumi il pesce il formaggio il latte e così via bisogna ridurre le proteine la raccomandazione internazionale è basate la vostra alimentazione prevalentemente su cibo di provenienza vegetale quindi su cinque giorni alla settimana che i bambini mangiano a scuola che tre siano basati su cibo vegetale e in due ci sia anche del cibo animale senza le carni conservate allora questo è per dirvi nel sito trovate anche le basi scientifiche di queste raccomandazioni è un documento che abbiamo mandato al ministro della salute allo scopo di cominciare a smuovere le acque che si renda conto che queste raccomandazioni sono assolutamente inadeguate e incoerenti con le conoscenze scientifiche l'eccesso di proteine dei bambini è la principale causa dell'obesità infantile assieme alle bevande zuccherate l'altro punto importante è togliere dalle scuole i distributori di bevande zuccherate ed è una cosa difficile il preside di una scuola un mio vecchio compagno di scuola mi invita a fare una conferenza al suo liceo gli dico ma c'hai i distributori delle bevande zuccherate allora toglile e così io vengo a fare la conferenza e dice ma questa è l'unica fonte che ci dà un po' di soldi per poter fare delle iniziative didattiche ma è possibile che le nostre iniziative didattiche debbano dipendere dalle multinazionali delle bevande zuccherate quindi questo è l'altro passo importantissimo e poi ci sono altre cose naturalmente sarebbe importante che il cibo sia biologico ma questo quindi questo coordinamento si sta diffondendo un po' in tutto il paese abbiamo dei piccoli coordinatori regionali anche andate sul sito www.cambiamolamensa.it l'altra domanda che mi hai fatto è per quanto riguarda la alcalinizzazione del nostro corpo e beh sapete effettivamente abbiamo un'alimentazione molto acidificante che mette a dura prova i nostri reni e le nostre ossa soprattutto e quello che acidifica sono le proteine l'eccesso di proteine nell'alimentazione è quello che fa perdere calcio dalle ossa per esempio perché l'eccesso di proteine fa sì che tende il sangue non può diventare acido ma un piccolo spostamento verso l'acido piccolissimo spostamento dell'acido subito l'osso cede dei sali di calcio per tamponare questa acidità si conviene quindi ridurre il consumo di proteine anche le proteine vegetali acidificano e non bisogna esagerare nemmeno con le proteine vegetali ma esageriamo oggi soprattutto con le proteine animali dobbiamo ridurre le proteine animali per alcalinizzare questo potrebbe anche essere utile per la per la prevenzione dei tumori i tumori vivono in un ambiente acido perché quando spezzano la molecola di glucosio in due producono acido lattico quindi l'ambiente in cui vivono i tumori è acido ma studi sugli animali di laboratorio mostrano che se noi riusciamo ad alcalinizzarlo riduciamo la capacità dei tumori di diffondersi per cui io non sono contrario a prendere un pochettino di bicarbonati alla sera un cucchiaino di bicarbonati ci sono questi prodotti in farmacia dove ci sono tanti tipi di bicarbonati assieme e talvolta lo consiglio anche ai malati di cancro però fondamentalmente io consiglio di togliere di ridurre gli alimenti che acidificano oggi c'è il grande business dell'acqua alcalina con 3000 euro ti compri la macchina che ti fa l'acqua alcalina ma prima di spendere questi 3000 euro riduci un po' la carne nella tua alimentazione e non avrai bisogno di acqua alcalina grazie di questa domanda in particolare per la domanda sulle scuole però è difficile lavorare nelle scuole bisogna bisogna lavorare con i genitori non è che puoi cambiare la mensa perché se no ti trovi genitori che protestano perché hai tolto la carne ai bambini perché giustamente i genitori pensano che la carne faccia bene tutti i giorni perché noi medici abbiamo trasmesso questa informazione e invece bisogna informare i genitori che non è proprio così nel mio libro nella terza parte del mio libro dedicato ai bambini c'è un capitolo sul latte c'è un capitolo sulla carne dove cerco di mettere in chiaro il problema che è legato all'eccesso delle proteine animali che stiamo mangiando faccio io la domanda sono qua sono qua sono qua per terra ah di là volevo chiederle può darci un chiarimento sul latte in particolare per le persone che hanno magari una malattia tumorale o chi non ha la malattia e per i bambini e in parte aggiungo perché sembra che i nostri medici non sappiano come comportarsi di fronte alla domanda posso bere latte non posso bere perché c'è anche il discorso dell'osteoporosi c'è un po' di confusione generale se può darci un chiarimento su questo grazie grazie a questa domanda il latte è un alimento importantissimo assolutamente importante il latte di mamma mi riferisco è importantissimo che nel primo anno di vita almeno i bambini abbiano il latte di mamma per mille ragioni i bambini allattati con un latte artificiale hanno più rischi anche il rischio di diventare obesi perché nel latte artificiale noi medici abbiamo pensato che il padre eterno si fosse sbagliato avesse messo poche proteine nel latte di mamma mentre invece nel latte di mucca ce ne sono quattro volte di più e nel latte artificiale ne abbiamo messo il 50% in più e i bambini allattati con il latte artificiale è più facile che diventino bambini obesi perché l'eccesso di proteine fa ingrassare quindi tutto positivo per quanto riguarda il latte di mamma per quanto riguarda il latte di mucca beh anche i pediatri oggi lo sconsigliano i bambini nel primo anno di vita nel modo più assoluto perché può causare emorragie eccetera se per caso lo si deve usare bisogna diluirlo molto molto e poi non è che i bambini abbiano bisogno di latte c'è questo mito nel mondo medico ma nel mondo generale non solo nel mondo medico che il latte e i formaggi siano importanti per la salute delle ossa ed è un mito è un ragionamento c'è tanto calcio nel formaggio e allora le ossa hanno bisogno di calcio e allora il formaggio farà bene le ossa e invece no non è così nei nostri studi nel nostro studio EPIC per esempio siamo andati a vedere chi ha avuto la frattura dell'anca sono grandi studi su grandissimi numeri e abbiamo visto che il rischio di avere una frattura dell'anca aumenta linearmente con il consumo di carne più carne mangi più i fratturi dell'anca diminuisce linearmente con il consumo di verdure più verdure mangi meno i fratturi dell'anca e poi siamo andati a vedere il latte e i formaggi nessuna relazione con il latte nessuna relazione con i formaggi l'interpretazione non è facilissima ma l'interpretazione più elementare è che la carne acidifica e non contiene calcio le verdure alcalinizzano e quindi non fanno perdere calcio delle ossa i latti i formaggi sono molto ricchi di calcio ma sono anche molto ricchi di proteine animali proteine che acidificano quindi da un lato il calcio te lo danno dall'altro te lo tolgono noi non troviamo rischio però e non troviamo rischio da latte e formaggi ma ci sono studi che hanno trovato un rischio da latte non da formaggi in particolare un grande studio fatto in Svezia pubblicato un paio di anni fa su 90.000 donne anche queste sono le donne seguite con la mammografia che compilano i questionari alimentari periodicamente e anche gli studi americani delle infermiere americane avevano trovato che il rischio di frattura in particolare di frattura dell'anca aumenta con il consumo di latte il meccanismo non è chiaro ma si ipotizza che si è dovuto ad un'azione infiammatoria del galattosio che è uno degli zuccheri del latte comunque noi nel nostro studio epico non troviamo un rischio ma non troviamo neanche una protezione per cui se bevete latte e bevete formaggio bevetelo perché vi piace non perché fa bene non seguite la raccomandazione del medico che dice mi raccomando signora lei è meno pausa si mangi mezzetto di parmigiano al giorno non serve a niente serve a far aumentare il colesterolo serve a far aumentare la pressione per tutto quel sale che c'è dentro non serve per la salute delle ossa per la salute delle ossa diminuite la carne e aumentate le verdure e fate attività fisica andate a camminare andate a camminare con lo zaino e poi ci sono altre cose che si possono fare c'è un capitolo sul mio libro proprio sulla salute delle ossa la questione del latte e i tumori è una cosa che mi preoccupa in generale nel senso che chi beve latte ha più alti livelli nel sangue del principale fattore di crescita si chiama IGF1 fattore di crescita insulino simile di tipo 1 il fattore che fa crescere i bambini il fattore che fa crescere i vitelli decine di studi hanno mostrato che chi beve latte ha più alti livelli nel sangue di IGF1 e decine di studi hanno mostrato che chi ha più alti livelli nel sangue di IGF1 si ammala di più di cancro in generale però gli studi che hanno guardato il rischio di cancro in rapporto al consumo di latte non hanno dato dei risultati chiari tant'è vero che nelle raccomandazioni del codice europeo contro il cancro non c'è nessuna raccomandazione per quanto riguarda il cancro non dice niente se mangiare o non mangiare i latticini perché i latticini sono associati al cancro della prostata gli studi generalmente trovano gli studi su cancro della prostata chi beve latte mangia formaggio si ammala di più però gli studi trovano anche che chi beve latte mangia formaggio soprattutto chi beve latte non tanto chi mangia formaggio si ammala un po' di meno di cancro dell'intestino e questo verosimilmente perché è il calcio che protegge dal cancro dell'intestino ma ci sono tanti alimenti ricchi di calcio non c'è bisogno di bere latte per cui non ci sono delle raccomandazioni ufficiali io personalmente prudenzialmente raccomando al malato di cancro di non bere latte ci sono due studi che sono molto allarmanti uno sul cancro della mammella e uno sul cancro della prostata sui pazienti con cancro della mammella questo studio americano trova che i pazienti con cancro della mammella che bevono latte hanno più recidive ma è uno studio solo per ora per cui sarà vero non sarà vero bisogna fare degli altri studi un altro studio di nuovo è uno studio solo trova che i pazienti che hanno il cancro della prostata se bevono latte hanno più metastasi e la ragione e l'interpretazione di questi dati è dovuta al fatto che il latte di oggi è molto diverso dal latte di ieri quando io ero piccolo e la mia mamma mi dava i caffè latte tutti i giorni le mucche facevano 10 litri di latte al giorno 12 litri quelle proprio brave oggi gran parte delle nostre mucche fanno 50 litri 40-50 litri di latte al giorno non mangiano più l'erba forse in Val d'Aosta le mucche mangiano ancora l'erba può darsi almeno un po' però una volta in montagna ha chiesto a Margaro ma quanti litri fa e mi fa e arriviamo a 20 litri è una mucca che pascola in montagna e che mangia solo l'erba non riesce a fare 20 litri di latte al giorno vuol dire che gli danno degli integratori ma c'è una cosa più grave ed è che oggi si è riusciti a selezionare le mucche da latte che siano capaci di produrre latte per tutta la gravidanza una volta una volta la mucca aveva il vitello aveva la montata lattea e quindi c'era il latte per il vitello il latte per il margaro e poi la mucca rimaneva di nuovo gravi dall'anno dopo e dava latte ancora per un mese o due e poi si seccava adesso invece le mucche hanno selezionato le mucche che sono capaci di produrre latte per tutta la gravidanza e nella seconda metà della gravidanza il latte è molto ricco di estrogeni di estrone in particolare e allora io per esempio al mio nipotino maschietto di tre anni non gli voglio dare il latte perché non voglio dargli gli estrogeni c'è un inquinamento del mondo da parte di sostanze che hanno un'azione estrogenica probabilmente è un po' alla base di questa crescente sterilità maschile e questa crescente è anche impotenza maschile allora io vi consiglio se volete bere latte assicuratevi che sia una mucca che mangia il suo cibo e che non venga monta nella seconda metà della gravidanza il consiglio che vi do è di compratevi una mucca di mandorla il latte di mandorla è una meraviglia l'ho trovato io domani mattina a colazione mangerò un musli un musli senza zucchero con latte di mandorle e i lati di cereali vanno anche molto bene sono solo delle speculazioni commerciali indecorose un cucchiaio di riso e un litro d'acqua costa più del latte di mucca mi sembra una cosa assolutamente vergognosa per cui io il latte di riso me lo faccio in casa per cui questi lati vegetali si possono mangiare certamente ma non c'è bisogno di dare il latte tutti i giorni ai bambini non c'è bisogno di prendere il latte per la salute delle ossa non c'è bisogno di latte per nessuna ragione ma è probabile che sia un po' meglio perché le capre credo che le capre mangino ancora il loro cibo insomma qualche cosa di un po' più però anche il latte di capra è un latte per far crescere quindi fa aumentare l'IGF1 eccetera ripeto io ripeto io giustamente dice che non bisogna esagerare con le carni rosse o le carni conservate con i formaggi latte eccetera eccetera ma queste stesse prescrizioni varrebbero tra virgolette anche cent'anni fa cioè mi spiego cent'anni fa la mucca mangiava l'erba venivano coltivati i cereali le altre cose come Dio comanda le carni rosse venivano conservate in un certo modo cioè quanto di queste prescrizioni sono legate alla differenziazione e alla modificazione nella produzione dell'alimento all'inquinamento e quanto altro non sono sicuro di aver capito bene la domanda effettivamente quanto diciamo quanto in realtà l'alimento in sé può creare dei danni e quanto in realtà sia il processo di produzione dell'alimento a crearlo grazie ho capito perfettamente il processo di produzione direi che oggi è la cosa principale per quanto riguarda gli alimenti vegetali cioè fondamentalmente i cereali il processo di produzione dei cereali oggi trasforma un cibo molto importante e utile per la salute in un cibo che è dannoso il cereale raffinato e anche la selezione genetica dei grani che sono molto ricchi di grutine ha portato dei danni per cui è importante ritornare ai semi antichi e ritornare ai semi non raffinati per quanto riguarda le carni siccome il meccanismo principale con cui le carni rosse e non le carni bianche le carni rosse fanno aumentare il cancro è legato alla loro ricchezza di ferro è molto probabile che anche una produzione tradizionale che rispetta l'animale se mangi frequentemente quelle carni aumenti il tuo rischio di cancro dello stomaco e dell'intestino e fra l'altro anche in Italia c'è uno studio fatto già negli anni 70 c'era già cominciata la produzione industriale delle carni ma non era così drammatica come oggi che mostrava chiaramente la responsabilità delle carni rosse per il cancro dell'intestino per il cancro dello stomaco per lo studio era fatto sul cancro dello stomaco per cui io penso che non non è che se alleviamo le mucche come una volta ci ammaliamo di meno se le mangiamo con le frequenze di una volta ci ammaliamo di meno questo sì l'indicazione l'indicazione dell'internazionale è di limitare le carni rosse nel senso se le vuoi mangiare mangiali pure ma magari non mangiarle più di due volte alla settimana e il il rischio aumenta con la con la quantità naturalmente e il consiglio che vi do se vi piacciono mangiarvi una bella bistecca e nello stesso piatto metteteci tante verdure nello stesso pasto metteteci la frutta metteteci delle fonti di sostanze antiossidanti perché il meccanismo principale è l'azione ossidante quindi se mettiamo le sostanze antiossidanti riduciamo nei nostri studi è molto chiaro chi mangia tanta carne rossa ma mangia anche tante verdure si ammala un po' di più ma non ma molto meno rispetto a chi mangia poche verdure per cui io per non saperne leggere né scrivere anche se non ho dei dati sicuri di questo direi dopo pranzo prendetevi anche il caffè perché il caffè è molto ossidante è molto antiossidante e ha un'azione antiossidante nell'intestino e qualche studio ha mostrato che chi beve caffè si ammala meno di cancro dell'intestino e di cancro del fegato però solo se mangiate le carni rosse se non mangiate le carni rosse non avete bisogno di merendere il caffè buonasera grazie dottore volevo chiederle se la psiche per psiche intendo un trauma un trauma forte sia scatenante per il fattore tumorale grazie è una domanda bellissima che richiederebbe tempo per rispondere bene gli studi sono molto difficili da fare sull'influenza della psiche però ci sono sempre più dati che vanno in questa direzione che si vede nella storia di molti pazienti è forse molto più chiaro per la proniosi che non per i medici sanno una donna ha avuto il cancro della mammella apparentemente guarita per dieci anni per quindici anni muore il marito e compaiono le metastasi anche voi avete l'esperienza probabilmente di questi casi cioè in particolare una persona che vede il suo mondo non reggere più in qualche modo è come se addirittura il cervello limbico decidesse che è meglio morire qualche cosa del genere per cui è estremamente importante dare il sostegno l'empatia anche nel caso di una difficoltà che insorga nella vita di una persona che ha avuto il cancro e questo il vostro ruolo il ruolo delle associazioni è importantissimo in questo campo per quanto riguarda l'insorgenza del tumore ci sono degli indizi che vanno in questa direzione però è veramente un campo che è molto difficile da studiare e io personalmente ci lavoro sempre di più su queste caratteristiche questi questi eventi che hanno che hanno causato un grande dolore per cercare di risolverli in qualche modo e che non vadano ad alimentare la probabilità di ammalarsi e di riammalarsi buonasera può darci qualche consiglio per favore sulle combinazioni alimentari prima ha detto di mangiare i cereali con i legumi oppure abbinare la frutta dopo il pasto cosa pensa delle combinazioni alimentari igieniste che dicono magari di mangiare la frutta da sola di non mischiare la dolce con l'acida le proteine con i carboidrati grazie ma sì sono delle piccole raccomandazioni di una discreta saggezza sapete se voi avete fatto un pasto abbondante con magari con tanta carne o tanti grassi che rallentano molto lo svuotamento dello stomaco e poi vi mangiate la frutta a fine pasto andate a danneggiare un po' la capacità del nostro sistema digerente di gestire la situazione se però voi mangiate cereali legumi verdure non c'è nessun problema mangiare la frutta a fine pasto nel senso che comunque sono cose che non e se masticate molto bene quando si mangiano i cibi integrali bisogna masticare tantissimo la gente mi dice ma io non posso mangiare i cibi integrali non posso mangiare i legumi perché mi scoppia la pancia poi c'ho i diverticoli no? no no vanno benissimo queste cose anche con i diverticoli a condizione di fare il lavoro che bisogna fare in bocca dobbiamo masticare in modo da mandare giù tutto liquido e allora tutto funzionerà meglio nell'intestino queste raccomandazioni igienisti di non mescolare proteine diverse per esempio le proteine del formaggio della carne dell'uovo mi sembra che abbiano una discreta saggezza anche se non è un non è qualche cosa che di per sé possa causare malattia però può causare disagio scegliamo il cibo semplice non facciamo tanti miscugli è molto buono se il cibo è buono è buono il cibo semplice non c'è bisogno di fare chissà quali sughi quali salse e sì volevo riguardo questa è la seconda domanda allora non so se hai diritto riguardo al discorso degli antiossidanti visto che prima ne aveva parlato relativamente alla carne gli ultimi anni mi sembra che c'erano comparsi degli studi relativi al fatto che l'integrazione con gli antiossidanti non abbia nessuna incidenza protettiva riguardo alle patologie degenerative e come si combinano cioè voglio dire è un argomento assolutamente affascinante sì effettivamente prendere pillole di sostanze antiossidanti non serve a niente per la protezione dal cancro forse la frase è un po' troppo forte detta così ma negli anni 80 quando avevamo visto che chi mangia tante verdure e tanta frutta si ammala meno di cancro del polmone a parità di sigarette fumate sono partiti degli studi importantissimi su decine di migliaia di fumatori gli si dava una pillola di beta carotene perché sembrava che fosse soprattutto la verdura ricca di beta carotene che protegge e il risultato è stato disastroso nel senso che chi prendeva la pillola di beta carotene ha aumentato il cancro del polmone non l'ha diminuito si pensava che la vitamina E un'altra sostanza antiossidante che sta nei cereali integrali che sta nell'olio extravergine di oliva servisse per la protezione dal cancro della prostata è partito un grande studio negli Stati Uniti su 37.000 persone anziane metà prendevano vitamina E metà prendevano il placebo anche questo studio è stato interrotto perché chi prendeva la vitamina E si ammalava di più non di meno di cancro della prostata e verosimilmente questo succedeva perché perché i fumatori hanno migliaia e migliaia di cellule nel polmone che hanno già accumulato tutte le capacità di sviluppare una cellula di sviluppare un tumore si trova in un ambiente favorevole dentro di noi e noi ci proteggiamo perché ci sono dei geni nel nostro DNA ci sono dei geni che fanno suicidare la cellula quando quando è alterata ma per suicidarsi le cellule utilizzano i radicali liberi se noi i radicali liberi sapete sono queste sostanze molto ossidanti che si formano nel nostro metabolismo e se il padre eterno ha inventato i radicali liberi vuol dire che servono a qualche cosa servono per esempio a far suicidare le cellule tumorali la radioterapia è efficace perché fa aumentare i radicali liberi nelle cellule tumorali molte chemioterapie hanno la stessa azione di fare aumentare i radicali liberi se noi prendiamo delle dosi troppo alte di sostanze antiossidanti noi rischiamo di impedire il suicidio delle cellule tumorali e anche le persone anziane sapete alla mia età due persone su tre hanno un cancro della prostata che magari si svilupperà quando avremo 120 anni però se noi impediamo il suicidio delle cellule tumorali rischiamo di farlo sorgere per questo probabilmente che sono aumentati i tumori della prostata in chi prende le pillole di vitamina E per cui gli antiossidanti servono per prevenire i tumori perché impediscono l'attivazione di sostanze cancerogene perché bloccano i radicali liberi che sono capaci di danneggiare il DNA ma quando c'è un tumore io sconsiglio proprio di prendere sostanze antiossidanti perché rischierei di ostacolare la nostra capacità di autoguarigione e di ostacolare anche l'azione dei farmaci negli animali di laboratorio è molto chiaro questo se ho un topo a cui dai cancerogeno perché fa venire i tumori della mammella gli dai anche tanta vitamina E il tumore della mammella cresce di più e per cui andiamoci piano prendiamo la vitamina E mangiando i cereali integrali usando l'olio extravergine di oliva usando i semi e non non ne avremo troppa non riusciremo a mangiare tanti cereali integrali da avere troppa vitamina E ma non prendiamo pillole e anche questi questi ambienti di medicina alternativa dove dove si consiglia i malati tumorali di bere dei grandi beveroni di centrifugati di frutta e verdura io sarei prudente può andare bene per una settimana una persona che deve disintossicarsi ma ma rischiamo di sai non riusciresti a mangiare dieci mele ma a bere un centrifugato di dieci mele ce la fai per cui rischiamo di esagerare con le sostanze antiossidanti grazie di questa domanda molto importante buonasera qua buonasera volevo sapere lei cosa ne pensa del consumo frequente di soia e i suoi derivati ma ne penso ci sono miliardi di persone al mondo che mangiano soia e derivati di soia tutti i giorni e non hanno di è un alimento molto comune in oriente e anche molto comune in occidente perché l'industria alimentare usa la soia e la mette dappertutto se andate a mangiare un gelato c'è la soia dentro moltissimi prodotti industriali hanno la soia c'è una preoccupazione da parte degli oncologi c'era per alcuni c'è ancora per quanto riguarda le donne che hanno avuto il cancro della mammella e gli oncologi raccomandavano di non utilizzare prodotti di soia ed era una raccomandazione intelligente nel senso che la soia tutti i legumi ma la soia in particolare è molto ricca di sostanze che si chiamano sono chiamate fitoestrogeni perché hanno un'azione ormonale femminile e sapete gli ormoni femminili sono quelli che stimolano la proliferazione dei tumori della mammella tant'è vero che si fanno le terapie antiormonali per cui i medici avevano paura che queste cose potesse interferire potesse anche ostacolare l'azione del tamoxifene per esempio però sono stati fatti studi su migliaia e migliaia di pazienti c'è una meta analisi pubblicata anche che mostrano che le donne che hanno avuto il cancro della mammella e che mangiano un po' di soia hanno meno recidive rispetto a quelle che non mangiano soia per cui non preoccupiamoci più di tanto magari mangiamo la soia come l'hanno sempre mangiata nei paesi dove si mangia soia da noi si fanno gli hamburger di soia gli wurstel di soia trasformano estraggono le proteine della soia per farle sembrare carne e così via ma se proprio vi mangiarti una volta un hamburger mangiati un hamburger non hai bisogno di mangiarti l'hamburger ma niente contro l'hamburger di soia però mangiamo il miso mangiamo il tempeh mangiamo qualche volta il tofu piuttosto che andare a inventare delle trasformazioni industriali della soia anche perché poi fra l'altro sono più buone quelle cose lì si possono fare degli ottimi piatti con la soia o usiamo il latte di soia molto bene per fare i dolci per esempio per fare una besciamella con il latte di soia però io non ti direi di prendere il latte di soia tutte le mattine a colazione ti direi di fare sette colazioni diverse nella settimana quindi ecco qua su una domanda su un altro alimento un po' controverso il mais e cosa ne pensa del mais ma di tutti i cereali il mais è quello che ha l'indice glicemico più alto proprio perché l'amido del mais è diverso dall'amido del riso per esempio e quindi dobbiamo sapere che se mangiamo mais aumenta di più la glicemia che se non mangiamo un altro cereale per cui va benissimo mangiare il mais va benissimo mangiare la polenta ci mancherebbe magari in questa io consiglio quando si fa la polenta magari facciamo mescoliamo la farina di mais usiamo una farina integrale di mais non non mangiamo la polenta quella pronta quella la polenta super raffinata magari mescoliamola anche con il grano saraceno ma il consiglio che vi do è di mangiarla con i fagioli con le lenticchie è molto buona la polenta con i legumi perché i legumi hanno questa proprietà di rallentare la velocità di assorbimento degli zuccheri il mais sapete c'è una drammatica iperproduzione di mais probabilmente il mais è l'alimento più mangiato al mondo ma perché il mais serve per nutrire le vacche per nutrire i vitelli serve per fare serve per fare lo sciroppo di glucosio e fruttosio che è molto peggio dello zucchero ci si fanno un sacco di cose con i mais ma mangiarsi una buona polenta io sono favorevole e qualche volta perché no anche con una buona fontina posso fare l'ultima domanda l'ultima cosa ne pensa della mammografia preventiva ma è una roba che si mangia allora ne penso molto bene ma ma è un tema di grande difficoltà la prevenzione è una cosa difficile e non sempre è sensato fare fare la diagnosi precoce io sono per esempio molto contrario alla diagnosi precoce per il cancro della prostata io ho un'età in cui il cancro della prostata è frequente però ho deciso che io non faccio il PSA è un esame di laboratorio che potrebbe evidenziare la presenza di un cancro della prostata sapete che il cancro della prostata è triplicato nel volgere di vent'anni dopo che è stato inventato il PSA è triplicato perché si trovano anche quei cancri della prostata che non avrebbero mai ucciso e quindi è una cosa molto difficile molti colleghi preferiscono fare il PSA perché il problema è che se il PSA viene positivo qui devo fare delle biopsie prostatiche si fanno delle biopsie random così una dozzina di aghi nella tua prostata per vedere le cellule ed è abbastanza probabile che si trovi un cancro della prostata visto che due uomini su tre alla mia età hanno un cancro della prostata e se mi trovassi un cancro della prostata mi direi ma cosa me ne faccio adesso sarei a disagio l'idea di avere un cancro della prostata magari mi farei operare o farei una radioterapia e anche se le tecniche migliorano sempre però ci sarebbero delle una certa probabilità di effetti collaterali sgradevoli con molta probabilità diventerei impotente non è che io sia granché potente alla mia età però ci sarebbe un certo rischio di diventare incontinente per cui io preferisco non fare il PSA e di mangiare il formaggio soltanto una volta ogni tanto quando so cosa ha mangiato la mucca per la mammella le cose sono diverse nel senso che è molto bene mentre per la prostata non è chiaramente dimostrato che si riduce probabilmente si riduce un po' la mortalità per il cancro della prostata facendo il PSA ma il danno mediamente per la popolazione potrebbe essere ben superiore ai benefici per il cancro della mammella non è così è molto probabile che i benefici siano superiori ai danni ma questo danno questo rischio esiste anche per la mammella gli studi che esaminano le mammelle nelle donne che muoiono per per incidente stradale trovano per esempio che al di sotto dei 50 anni 20 donne su 100 hanno un cancro della mammella molto piccolo spesso in situ ma sono molto meno le donne che sviluppano un cancro della mammella nel corso della vita beh sono circa il 10% e per cui sappiamo che facendo la mammografia si trovano anche un certo numero di casi che è difficile quantificare difficile capire che non si sarebbero mai manifestati nel corso della vita della donna per cui bisogna essere più la mammografia diventa capace di trovare tumori molto piccoli e più si rischia di trovare dei tumori che poi non si sarebbero manifestati e con la conseguenza di un intervento chirurgico che oggi gli interventi chirurgici sono bravissimi veramente per un tumore molto piccolo non c'è proprio nessun danno estetico al seno ma ma ci sono le altre terapie che si devono fare e le terapie sono pesanti una terapia ormonale può anche rovinare un po' la vita sessuale di una donna per esempio e per cui del danno si può fare ed è un tema su cui la medicina deve riflettere molto è un tema difficile su cui dobbiamo riflettere molto sicuramente io penso che sia sicuro anche c'è chi mette dei dubbi ma gli studi mostrano che si riesce a ridurre la mortalità per cancro della mammella facendo periodicamente si ridurre del 20% circa che è una cosa abbastanza importante ma ci sono tanti altri modi io dico va bene facciamo pure la mammografia ma facciamo anche tutte le altre cose che sappiamo fare per ridurre il rischio di cancro della mammella evitiamo le radiografie inutili nelle bambine sapete le radiazioni nelle bambine causano i tumori della mammella miglioriamo le tecniche di radioterapia quando una bambina si ammala di morbo di Hodgkin facciamo in modo di non ingrassare di mantenerci snelli per tutta la vita facciamo in modo di non sviluppare la sindrome metabolica o se abbiamo la sindrome metabolica e facciamola tornare indietro modifichiamo il nostro stile di vita in modo da non avere né la pressione alta né la glicemia alta né i trigliceridi alti né il colesterolo buono basso basta fare attività fisica e fare un'alimentazione basata prevalentemente su cibi di provenienza vegetale non industrialmente raffinati e magari andiamo anche a letto presto la sera perché chi vive di notte le donne che vivono di notte si ammalano di più di cancro al seno le hostess le infermiere le infermiere che fanno i tumori di notte che fanno i turni di notte si ammalano di più è un pensiero di ringraziamento di queste persone che lavorano per noi ma se non abbiamo bisogno di farlo per la nostra vita professionale cerchiamo di vivere di giorno è l'effetto della melatonina nei nostri studi troviamo che le donne che avevano la melatonina più bassa nelle urine del mattino nelle urine raccolte durante noi raccoglievamo l'urina dalle otto di sera alle otto del mattino e le donne che avevano la metabolita della melatonina più bassa hanno avuto un rischio doppio di ammalarsi di cancro della mammella cioè il modo di vivere di oggi e poi anche ragazze è vero che non possiamo più avere i figli a 18 anni come facevano le nostre nonne però però pensiamoci non svegliamoci a 40 anni devo dare in fretta per avere un figlio e magari pensiamoci di averlo prima e poi se abbiamo un figlio allattiamolo perché l'allattamento riduce un pochettino il rischio facciamo tutte queste cose qua e allora magari facciamo anche la mammografia e sarà anche più difficile che trovi un tumore che non c'è vi ringrazio grazie affascinante sempre noi ci auguriamo che abbiate accolto il messaggio trasmesso dal professore che si è servito comunque ad avere una visione più chiara del complesso del panorama dell'alimentazione e ci auguriamo di aver stimolato anche la curiosità per saperne di più e difendere questo grande valore grazie per essere stati qua grazie professore buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti